Ciao a tutti, in questo video tutorial io vi faccio vedere come realizzare questa sciarpa a uncinetto, questa sciarpa scalda collo o copricollo come lo vogliamo chiamare, che è di gran effetto, io ho fatto al contrasto colore rosso e nero, per realizzarla ho scelto filato che si chiama Globe Uni di Adria Fil, qui composizione 80% lana e 20% nylon, in 50 grammi sono 87 metri, io ho usato uncinetto numero 5 e per questo progetto io ho usato 150 grammi di rosso e 50 grammi di nero, poi ho decorato la sciarpa con tre bottoni, sempre al contrasto nero e cucito con la stessa lana rossa e adesso vi faccio vedere vari modi come si potrebbe indossare questa sciarpa, questo è primo e adesso vi faccio vedere anche un paio di altri modi, questo potrebbe essere un altro modo sempre per indossare questo scalda collo che qui vediamo che abbiamo chiuso tre bottoni e vengono coperte tutte le spalle e anche il collo, vi faccio vedere anche qualcosa diverso, questo è il terzo modo che assomiglia di questo che ho fatto vedere prima ma ho chiuso solo un bottone e lasciato aperto la scolatura, questo è un altro modo che io qui ho chiuso solo due bottoni e questa parte ho bloccato con terzo e anche in questa maniera si potrebbe indossare questo scaldacollo e l'ultimo che vi faccio vedere e sarebbe da chiudere diversamente che sarebbe questo modo che io ho avvicinato due angoli, ho chiuso tre bottoni e con coletto si copre davanti, certamente che ognuno di voi sceglierà il modo proprio, il modo preferito per indossare questa sciarpa e come possiamo vedere da una semplice sciarpa si potrebbe creare vari modelli. Spero che questo il progetto vi incuriosito e rimanete con me e detto questo passiamo al tutorial. Ho avviato 40 catenelle e adesso possiamo iniziare a fare primo giro, faccio 3 catenelle, 3 e ancora un'altra che sarà quarta che serve per girare e faccio una maglia alta nella quarantesima catenella, è fatto, una catenella, salto una catenella di base e nella prossima faccio una maglia alta, è una catenella, salto la catenella successiva e nella prossima faccio una maglia alta. E così vado avanti fino alla fine del giro, quindi una catenella, salto una catenella di base e nella prossima faccio una maglia alta. Ho fatto primo giro e mi è rimasto a fare ultimo elemento, quindi faccio una catenella e ultima maglia alta nella ultima catenella. Ok, e così abbiamo terminato primo giro. Facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro e adesso qui nella vertice della maglia alta noi facciamo puff stitch, quindi getto il filo, entro in questo spazio, tiro il filo, getto ancora, entro, tiro il filo e getto la terza volta, entro, tiro il filo e possiamo vedere che su un uncinetto sono due, quattro, sei, sette maglie e queste sette maglie li chiudo insieme e chiudo ancora una volta e così li facciamo in ogni vertice della maglia alta che sarebbe questo spazio 1, 2 e 3 e chiudo insieme e chiudo ancora. Faccio vedere ancora una volta 1, 2, 3 e chiudo insieme e così vado avanti fino alla fine del nostro giro entrando sempre in questo spazio della maglia alta. Ho fatto tutto il giro di puff stitch e si presenta in questa maniera e mi è rimasto a fare una maglia alta nella quarta catenella dell'inizio del giro e così ho terminato il secondo giro e adesso da allora e poi dobbiamo andare avanti in questa maniera alternare un giro di maglie alte con una catenella in mezzo e un giro di puff stitch quindi io adesso faccio 3 catenelle 1, 2, 3, giro il lavoro e faccio una maglia alta qui sopra il puff stitch in questo spazio è fatto una catenella e un'altra maglia alta sopra il puff e una catenella e la maglia alta successiva nel successivo puff stitch e così andiamo avanti alla fine del giro sono andata un po' avanti con lavoro e come vedete la mia sciarpa è arrivata quasi a 80 cm adesso vi voglio parlare un pochino se volete fare un collo voi dovete unire semplicemente entrambi parti e cucire a uncinetto come unendo una catenella da una parte e una maglia dall'altra parte se volete fare la sciarpa lunga continuate andate avanti con lavoro invece io ho deciso di fare un collo con abbottonatura e quindi ho deciso di bordare alla mia sciarpa e come faccio io adesso devo finire ultima maglia maglia alta e insieme con questo io unisco un altro filo e lo faccio in questa maniera allora codina corta la metto così davanti e finisco la maglia con un altro colore cosa faccio? questi due fili un nuovo colore e il filo vecchio lo mando avanti e chiudo la maglia con un nuovo colore e quindi adesso faccio così giro il lavoro questo filo rosso non mi serve più e lo posso anche tagliare ok e bordo la sciarpa in questa maniera adesso io ho girato il lavoro e quindi faccio una catenella e vado con le maglie basse entrando in ogni maglia quindi una maglia bassa poi un'altra maglia bassa sopra una maglia alta del giro precedente e contemporaneamente ho messo anche questi due codini sopra il lavoro e le faccio entrare dentro il lavoro nascondendole quindi una maglia bassa un'altra maglia bassa sopra una maglia alta e così vado avanti fino alla fine di questo giro sono arrivata alla punta del diciamo della nostra sciarpa e quindi cosa faccio? faccio maglia bassa nello stesso punto faccio un'altra maglia bassa e ancora un'altra maglia bassa nello stesso punto quindi ho fatto tre maglie basse e con questo mi permette di girare per andare in un'altra superficie e adesso qui continuo a lavorare con maglie basse voi potete fare come vi piace potete prendere sotto potete prendere entrando in mezzo qui è sempre al vostro piacere quando arrivate al prossimo angolo ho fatto lo stesso lavoro quindi in ogni angolo devono essere messe tre maglie basse e finiamo tutto il perimetro della nostra sciarpa con maglie basse ho fatto un giro di tutti i maglie basse e come vi ricordate abbiamo iniziato il giro facendo due maglie diciamo dall'angolino quindi facciamo nello stesso angolino un'altra maglia bassa ok e si può chiudere il lavoro cioè chiudere il giro con una maglia bassissima entrando nella prima maglia di questo giro e così adesso io volevo fare un altro giro attorno quindi io faccio una catenella e faccio un puff stitch tornando indietro come punto gambero quindi getto una volta filo salto una catenella nella prossima tornando indietro entro e tiro fuori il filo prendo ancora una volta filo entro nella stessa maglia tiro il filo e chiudo tutti i magli insieme e chiudo ancora una volta salto la maglia successiva e nella prossima faccio questo lavoro getto il filo entro tiro il filo getto ancora filo entro nella stessa maglia e tiro il filo e tutti questi magli che li abbiamo sull'uncinetto una due tre quattro e cinque li chiudiamo insieme e ancora una volta chiudiamo è fatta e vi faccio ancora rivedere quindi salto la prossima maglia getto il filo e nella maglia successiva entro entro tiro il filo getto ancora una volta entro ancora tiro e tutti i 5 magli che abbiamo sull'uncinetto li chiudiamo tutti insieme una specie di puff che abbiamo fatto anche durante tutta questa lavorazione solo che tornando indietro come punto gambero tiro e chiudo faccio ancora vedere un'ultima volta è allora getto il filo entro tiro getto entro tiro passo tutti insieme e chiudo e così andiamo a bordare la nostra sciarpa a tutto il perimetro allora io sono arrivata fino a fare angolo quindi ho fatto puff e faccio entro saltando una maglia qui faccio così uno e due chiudo chiudo e quando siamo nell'angolo qui io non salto la maglia successiva entro subito nella maglia nella prossima maglia quindi faccio in questa maniera quindi faccio in questa maniera tiro tiro chiudo e quando con questo sistema che sono entrata nella maglia successiva io giro l'angolo e adesso posso entrare anche saltando una maglia così facendo questo gioco qui la nostra sciarpa rimane dritta e non si alza questo angolo quando lo mettiamo addosso ho finito di bordare la mia sciarpa e come vediamo il risultato finale è questo poi ho attaccato sulla parte lunga della sciarpa tre bottoni che era scelta più difficile di scegliere un bottone adatto ho cucito con la stessa lana rossa e come vediamo il risultato è questo così si presenta da parte del davanti e così si presenta da rovescio e come vediamo che la bordatura è lo stesso puff stitch come abbiamo fatto tutto il lavoro come potete constatare che lavorazione non è stata per niente difficile e spero che vi è piaciuto anche questo progetto e ci vediamo presto ciao ciao